Applausi, applausi, sì, sì, perché comunque tra due squadre che non avevano nessun obiettivo, sia Lazio che Timonese, perché comunque la Lazio era già in centro, invece la Timonese era già praticamente retroversa in S3B, complimenti per lo spettacolo. Complimenti per lo spettacolo che non erano in campo, dunque è stata una bella partita, una bella partita in cui siamo sicuramente Dio e Chianti, e alla fine la porta a casa la Lazio, che festeggia bene la Champions con una vittoria, dunque l'atteggiamento delle regole monese più aggressivo, giustamente per onorare il campionato. Allora, al primo tempo, meglio Lazio, cioè, nella partita bella si è il primo o il secondo tempo, allora, al primo tempo, vi dico un leggermente meglio Lazio, comunque la Cremonese ha creato poco, assolutamente poco, e al quarto, subito va in vantaggio alla Lazio, con un modo che in area serve il mio sai, che con grande freddezza, tira sulla sinistra del portiere, tira imparabile 1-0. Al tredesettesimo, poi, di Linkovic-Savic, su assist di Petro, la gancia e tira, e sulla sinistra, il pallone sulla sinistra, 2-0. La Lazio, bene, bene. Bene. Ho fatto una tredata. Scusate, comunque, è la mia madre che mi stava aggiornando sui video sui video, ma vabbè, facciamo stare. Bisogna questa parte del video. Si taglia, se riesco. Comunque, stavamo dicendo, la Lazio è bene per il primo tempo. Bene. Ha fatto una grande partita. Una grande partita. Spazio della Cremonese è poco aperto, ma nel secondo tempo si addormenta un po'. Si addormenta un po', perché, comunque, concede in quattro minuti. Prima, anche Aldameschi, su assist di Valeri, tira, deviato, un 2-1. E al cinquantocottesimo, su Lazio, che provava ad allontanare, sul cross di un giocatore della Cremonese, 2-2. Poi, quando gli squadri ci stavano provando, erano lì che ci stavano sempre provando, all'ottantanovesimo, Menecović-Savic su un errovaccio della difesa della Cremonese, batte il portiere per 4-2. Poi, al 96-6, Sarri ha un'espulsione totalmente inutile. Non ci sarà all'ultima di campionato. Comunque, grazie per lo spettacolo. Grazie per lo spettacolo, è stata una bella partita. Grazie a entrambi che ci hanno indicato questo spettacolo. nonostante tutte le due le squadre senza mettere, perché la seconda fase ha 2 punti e 200. Il 19esimo la Cremonese ha 24 punti. Non mi ha detto la stessa. Quindi, comunque, bello spettacolo. Grazie a entrambi le squadre, alla Lazio. E se è già così, la prima gara da quale è stata aritmicamente in mezzo a 2-3. Onore alla Cremonese. Comunque, onore alla Cremonese. Noi ci becchiamo dopo con il diventino di Milano. No. Qui, con il diventino di Milano. Noi ci becchiamo dopo. Se volete, vedete il nostro prossimo momento che potrebbe essere la mattina. Like a me, e ci becchiamo dopo. Ciao!